No, ho sbagliato, ho sbagliato, eccoci qua, eccoci qua, buongiorno, aspettate che faccio la storia su Instagram, un attimo, un attimo, gatto dai che è tardi, è tardissimo, 0-9-0-9, per una volta che faccio tardi io, non lo so, e chi altro ha fatto mai tardi, scusa, al Massimo Moro arriva al pelo, magari al pelo, comunque almeno 5 minuti abbondanti, manca il tempo di prenderci un caffè insieme, no io lo prendo per i cazzi miei, per quello ho rimutato, ha un fame, non è che abbiamo così tanti giochi oggi, lo dici tu, lo dici, abbiamo uno da sfondare a calci in culo, poi vediamo, cosa c'hai? Da pedate nell'anno, volevo mutare le sub, però non ci sono, non so perché, non ci sono, ma che problemi hai oggi, come fa a non esserci, scusa, non c'è la fonte, non c'è la fonte, ma io li sento, ma non è che partono, tu c'hai quelle di Twitch e partono, no, 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 dove siamo noi, non c'è la fonte, non c'è, c'hai aperta in qualche altra scena, sempre attiva, però si sente, cioè che cazzo? È un podcast, che cosa? È un podcast, aspetta, aspetta che le muto qua da... È un podcast, ma stai tranquillo, ma cos'è impazzito quell'altro? È un podcast, sì, ok, lo muta, siete pronti a registrare? 3, 2, 1, via. Non mi dice la registrazione audio, aspetta! Cosa vuol dire non mi dice la registrazione audio? Non è capace di usare niente oggi, è un podcast. Ho cambiato il microfono e quindi giustamente non... Non è più capace di fare tutto l'altro lavoro. Ha un Acer del 2004, gatto. Allora, il computer semplicemente non vede i micro... Aspettate, eh. Io però sono partito, adesso sarà tutto desincronizzato. Cazzi suoi! Cazzi suoi! Pronti? 3! Aspetta, aspetta! No, perché Audacity è una merda! Adesso fammi fare te lina! Ma un registratore di suoni! Hai ragione, mi dimentico... Guarda, veramente faccio quello. Che va bene, è buona poi la qualità. La migliore. Non è vero. Non è vero, ma perché bisogna sempre esagerare? Vai, vai! 3, 2, 1, via! Sto registrando? Ok, buongiorno e benvenuti alla Moca. Il podcast? Parecchio nuvoloso, infatti sono un film francese, sono nella penombra di totale. E' così oggi, casa mia. Mi si sente il rumore di sfondo, dicono. Hai rotto i coglioni. E' a te si sentirà una bestia di satana. Eh, perché su UBS sarai... non sarai crisper, roba che si sono su Discord e vicevia. Hai ragione. E vicevia, non esiste. E vicevia, effettivamente, sì. Vicevia? Però potrebbe essere anche usato, voglio dire. Vicevia? Sì, non è male. Non suona male. Ma come lo usai? Fammi una frase di esempio. Non la so fare, dai. È quella che ho fatto adesso. Volevo metterti in difficoltà, ero curioso. Se faccio così, me è peggio. Scusami. Gatto, dai, mi hai rotto le palle stamattina. Mi ricordo Alino quando aveva preso le robe, il microfono, ed era un delirio. Ma secondo me è perché semplicemente abbiamo il gain alto, basso il gain e siamo risolti. Guarda come non lo sentiamo più adesso. E mi alzi, eh? Io, Tobi, mi alzi. Sei al massimo su Discord, che se per sbaglio metti accento da te io muoio. Io in realtà vedo bene, cioè quando parlo vedo bene. Non ti so. Vabbè. Non importa. Non ti chiedo scusa a risolvere. Il problema è che ho un computer che fa un rumore della Madonna e li ho messo sotto una ventola. Il problema è che non trovo il cavo della ventola e adesso vi faccio sentire se attacco la ventola con il cavo che ho trovato, che cosa succede? Sentiamo. Il nostro inviato da Roma. Le ventole, quelle... Oh, madonna! È una macchinetta del caffè, è un compressore. È il vetro di un frigorifero. È al minimo. Senti com'è al massimo. Ma che cazzo di ventole sono? Parla che non sentiamo. Parlo, sto parlando perché... Non si sente, lo toglie. No. No, no, toglilo, per favore. Senti che stanno fresando in un'altra stanza. Allora, praticamente li ho attaccato. Il cavo è uguale, solo che si attacca la corrente. L'altro era alimentato da un USB. Quindi la ventola riceve il massimo dell'elettricità e non ha un limite. Va al massimo. Cioè, va proprio fortissimo. Capito? Va bene. Provo ad allontanare un po' il computer. Molto specifico come problema. Allora, faccio così. Magari lo allontano, lo sentite di meno. Ecco qua. Ho risolto tutto. Gran puntata questa della Mocca, devo dire. Ma sì, ma tanto ci ascoltano le anziane che non... Non è vero! Queste casalinghe toscane... Sarebbe divertentissimo. Signore, buongiorno! Eh sì, perché sbagliano, no? Perché dico la Mocca. Ah, la Mocca! La Mocca, il podcast per le casalinghe anziane. Ascolto questo podcast che parla di Mocche, ma... Sono un anno, ma non... Ma poi chi ascolterebbe un podcast che parla di Mocche? Eh, parla meglio, no? Gli appassionati, ci saranno gli appassionati. Ma di caffè, magari, non solo di Mocche, comunque. Il caffè non lo bevono, perché dà fastidio. Però la Mocca è quello che lo ascoltano, per ricordare i vecchi tempi. Quando potevano bere. E poi la gastrite, sai, signora mia. Va bene. Va bene, vogliamo parlare di videogiochi? Eh, magari, sarebbe bellissimo in questa Mocca. Perché bisogna... Eh, tocca. Se vuoi. Va bene. Allora, che cazzo avete giocato stasettimana? Eh, io... Guarda, mi so... Vogliamo subito partire con la bomba o la lasciamo a me? No, dai, teniamola per metà, teniamola. Cosa cazzo è la bomba? Eh, zociosi. Ah, ok, va bene, sì. C'è la bomba? Sì, scusami, scusami. Bomba di merda. Poi vediamo. Eh, adesso, dai. Era per caricarla un attimo in modo diverso. Ok, adesso ho tolto un po' di rumore anche dalla live. Ancora? Oh, ma non si può fare niente. Oh, ma se non mi devi toccare, stai attento, per favore. Adesso però dovrei essere perfetto. Non me ne frega un cazzo. La perfezione è già rotta i coglioni, smettila. Hai ragione. La perfezione appartiene solo a Dio. Ecco. Fa le prime a ste cose. È arrivato il genio. È arrivato il genio. Eh, c'ha ragione lui già, va bene. Ma non c'è la musica? Vabbè, voi parlate intanto. Credo che da qualche episodio non ci sia la musica, sai. A commenti, credo che da un paio di episodi non ci sia la musica. No, non è... Ah no, commenti in live, ok. In live, sì. Ok, perché? Comunque, io mi sono chiusissimo con... Infatti non ho giocato nient'altro se non Like a Dragon. Mi sono chiuso con Like a Dragon. Il primo. Il primo, sì. Il primo o il sette sarebbe. Esatto, Yakuza Like a Dragon. Infatti io mi ricordavo di aver fatto anche in live il secondo. Ho scritto Yakuza nella mia libreria di Steam e non c'era Infinite World. Perché non si chiama Yakuza, non si chiama Like a Dragon Infinite World. Hanno fatto un macello in occidente, vabbè. Devo dire che, mamma mia, quanto cazzo è bello. Sono veramente contento, sì, è incredibile. Ovviamente ho dovuto fare una cosa che ho chiamato La Dieta dei Videogiochi, dove... Fatemi spiegare. No, no, per verità, prego. Esattamente come la dieta normale del cibo, se io scivolo su un altro videogioco, se io voglio giocare a Yakuza Like a Dragon, che è un gioco dove o ti immergi completamente o lo molli dopo qualche ora. E io non lo volevo mollare, perché sapevo essere un gioco per me. Quindi ho detto, se scivolo giocando altri giochi, sicuro lo mollo. E quindi sono andato a dieta solo Yakuza Like a Dragon senza scaricare praticamente nient'altro se non per le live. E ce lo faccio, la sto facendo. Sta funzionando perché io mi immergo, capito? Io non gioco per finirlo, io lo gioco per giocarlo. Sì, bravo. E sta funzionando, grazie a Dio. È una roba... Cioè, ho dovuto fare terapia praticamente per riuscire a giocare ad un gioco lungo. Però mi sta piacendo tantissimo. Adesso sono arrivato in un punto dove mi sa che devo leggermente livellare, credo. Purtroppo, sì. Io ho fatto tutto quello che si poteva fare. Le missioni da eroe, tutta la roba secondaria, eccetera. Sto gestendo la pasticceria, che però l'ho fatta fallire malissimo, purtroppo. e quindi sono al massimo di quello che... Bellissima la pasticceria, tra l'altro. È solo che io credo di aver fatto qualche investimento sbagliato e nonostante mi paghino e sia arrivato a livello 100, nella top 100, comunque mi... Sto perdendo un botto di soldi, quindi non so bene cosa... Come... Ma... Ho sbagliato tutto. Però sono arrivato in top 100 perdendo soldi, incredibile. Quindi non affidatevi a Yotobi per consigli imprenditoriali. Questo è quello che abbiamo capito da tutto questo discorso. Assolutamente no. Però devo dire che è veramente incredibile Yakuza. Mi sta piacendo anche la trama, perché la trama l'hanno scritta... È una trama complicatissima che hanno scritto però da molto indietro. e parla di una guerra tra clan che però parte da te che diventi senza tetto, capito? Sì, perché deve essere un reboot, praticamente. È il reboot questo qui, non è il secondo, giusto? È il reboot, cioè è un reboot però... Soft reboot, diciamo. Sì, nel senso che comunque non è che va a riscrivere roba, è un sequel. È un sequel però con altri personaggi che hanno un'altra storia da zero, ecco. Nello stesso mondo. Cioè, conoscere personaggi prima fa, sicuramente. Cioè, più che personaggi, la storia prima sicuramente fa, però esatto, non è essenziale. Nel senso ti rispiega, ti rimette dentro questo mondo. Perché mi sta mettendo una voglia, però mi sa che è una roba che io avvio e mi sparo. Se lo giochi in live è praticamente impossibile. No, in live non credo proprio. Oltre al fatto che adesso dell'idea è un po' strappato. Il problema è quello. Cioè, il problema credo che della parte giapponese è solo... uso solo, tra virgolette, nelle prime quattro ore. Le prime quattro ore sono niente. Sono solo cinematic, praticamente. Sono tre capitoli di cinematic dove ti spiega tutto prima di diventare senza tetto che quella è la vera partenza della trama. Ed è bello pesante soprattutto all'inizio, perché tu all'inizio non conosci nessuno, quindi te ne frega relativamente di quello che ti stanno dicendo, perché non sei ancora entrato nel mondo. adesso che sono entrato nel mondo, ogni volta che si parla di un capoclan, io rizzo le orecchie perché dico, chi è? Che sta succedendo? Perché c'erano questi tre clan che si contendono la zona e quindi è molto figo. E in più credo che mi abbia per sempre rovinato i combattimenti a turni, Like a Dragon, perché ha i migliori combattimenti a turni che io abbia mai visto in vita mia, perché sono combattimenti a turni ma super dinamici. Ok. E quindi si usano gli oggetti, c'è la fisica, il ritmo è molto buono. Infatti, come dicevo da me, hanno lo stesso ritmo dei combattimenti di Final Fantasy X, quindi con l'ordine dei nemici e il tuo, nella lista, però molto più dinamico e molto più divertente da vedere, anche solo. Sì, poi anche quando imbatti in dei nemici, cioè è molto svelta la cosa, mi pare, cioè non è che c'è un caricamento, robe del genere che cambia. No, loro semplicemente si trasformano e sei di già a combattere. Sì, non vai nella zona come Pokémon, no, che va nella zona di combattimento. Lì combatti anche nei piccoli, 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 fatti solo tutti i nemici che si schiantano tra di loro, è molto figo, molto bello. È figo. È proprio bello. E adesso la trama... Ripeto, il 2 è ancora meglio, poi, cioè hanno fatto un lavoro per il combattimento a turni bellissimo. Cioè l'unico peccato di Yakuza, veramente, è che purtroppo sono indietro con... tecnicamente con il motore di gioco e tutto, che però sanno usare molto bene. Sì, è accettabilissimo nel senso che visivamente varia dal... da uno... un pezzo di città fighissimo, magari di notte col fiume che vedi le luci, i riflessi, eccetera. Di giorno, se tu prendi per sbaglio un veicolo di quelli piccolini in mezzo vuoto e sembra ancora da renderizzare, è tutto grigio senza oggetti, è proprio orribile. Più che altro nel... Nell'Infinite Welt che è alle Hawaii, lì è un po' più... cioè, te ne accorgi un po' di più, sarà che nell'altro c'è Tokyo ed è... cioè, è molto caratterizzata di là le Hawaii magari le conosci un pochino meno, te le fanno apprezzare, però c'è questo problema di luci, di robe che è un pochino strano a volte. Mentre nel... Stai condividendo lo schermo. Sì, esatto. Stavo cercando lo Yakuza giusto. È il Like a Dragon. È quello lì, guarda, con la copertina gialla. Ok, quello lì. Questo qui che è riuscito al Day One se non sbaglio con Sirius. Perché adesso sto facendo... Lo dico agli ascoltatori che guardano. Sto facendo... Ecco qua. Che dite? Il live adesso vedono noi da un lato e lo... e Steam dall'altro. Non so quanto sia bello da vedere però almeno sanno di che cosa stiamo parlando. Sì, si sta fottendo tutto, Gatto. Per un attimo Elgato... Cioè, si è visto il logo di Elgato. Non ti preoccupare. Siamo in una botte di ferro stamattina. Vedo, oggi è... Siamo in una tranquillità serenissimi. Io consiglio sempre per chi ha paura di addentrarsi magari in un gioco così grosso. Perché comunque il grosso like a Dragon è proprio un JRPG. Per chi ha paura di questo ma vuole comunque assaporare il mondo di Yakuza c'è sempre Judgment di fianco che non è a turni è action ed è molto più corto dura una ventina di ore è anche molto più serio nel senso non è cazzone c'ha un po' c'ha il suo umorismo ogni tanto però è molto più serio però il mondo è quello il Judgment qui che tra l'altro tu eri quello che c'era poi vabbè tu cercavi il Giappone quello tradizionale il campagnolo magari però questo qui invece è proprio Giappone verissimo il Giappone tradizionale se vuoi c'è l'Aika Dragon Isshin che è l'Aika Dragon ma ambientato nel Giappone che però quello lì è proprio vecchio si sente che vecchio quello però è molto carino io non l'ho retto non l'hai detto veramente a me era piaciuto le due ore che ho fatto in live mi erano piaciute molto sai che non ce l'ho ero sicurissimo eccolo qua non è e allora mi sa quale cavolo ho giocato io ho giocato una remastered in live sono sicuro il Kiwami avrei giocato che sarebbe il remake del 1 e del 2 con la grafica moderna diciamo no non era così moderno no era semi moderno ovviamente ok ok moderno secondo i giapponesi mi stai dicendo no conta che i Yakuza sono dalla Playstation 2 quindi moderno anche solo di qualche anno fa forse su Apex è vero che dovrebbe essere nel pass vero? sì sul pass non so se li hanno tolti li hanno messi li hanno tolti li hanno messi quindi non so cosa c'è adesso se adesso non mi vado ad aprire mille altre robe intanto Steam vi cuccate io ho avuto problemi con i primi Yakuza Kiwami e lo Zero perché secondo me il brawler il combattimento da brawler che hanno i Yakuza non sono un gran che secondo me soprattutto i primi lo Zero ancora ancora perché è uno degli ultimi in realtà però è tosto cioè è proprio tosto nel senso che a volte i nemici sono delle spugne infinite ed è non è proprio bello secondo me capito però vabbè però sono anche giochi vecchi quindi ci sta comunque gli Yakuza ci sono tutti sul Game Pass fino a Leica Dragon manca l'ultimo chiaramente e Judgment non c'è credo nessuno dei due Judgment perché sono due i Judgment tra l'altro non c'è Lost Judgment Judgment è Lost Judgment sì non c'è neanche Ishin sul Game Pass io voglio questo dei pirati voglio voglio giocare a Pirate Yakuza non lo so quello in teoria è uno spin-off dello spin-off è per quello che magari lo posso apprezzare perché è una roba completamente a caso quindi non so prezzo pieno però quindi no no sarà un gioco sarà un giocone ma è tipo Infinite Welt quindi Infinite Welt è 70 vedi che c'è già una differenza di prezzo però sarà come allora te lo paragonerei a Gaiden che è il prequel di Infinite Welt è quello con con Kiryu però è fatto a gioco grosso nel senso che Gaiden dura una decina d'ore una robettina giusto quasi un prologo questo qui invece sembra essere un gioco vero sì che arriva a febbraio sarà tipo l'ishin eh forse sarà più tipo una roba di ishin però da quel che ho capito è canonico allora allora è un sequel com'è canonico è canonico per quanto cioè nel senso che ishin è un what if più o meno ok mentre questo qui invece probabilmente non serve un cazzo la trama di sto gioco però però è canonica nel senso cioè se non la sai sti cazzi però però c'è ok sono curioso però voglio finire prima Yakuza Like a Dragon bravo uno alla volta che stai facendo la dieta apposta stai facendo la dieta apposta è uscito di tutto che volevo provare in sei giorni non ho toccato niente sono fiero di me ma anche un po' triste tipo che cosa è uscito roba mia e no roba mia sono usciti tre giochi un po' old school tra cui Monomith che è un gioco che stavo aspettando da una vita ed è uscito in accesso anticipato sono un po' dispiaciuto però l'ho aperto ieri giusto per vedere perché l'ho comprato poi l'ho chiuso e l'ho disinstallato perché aspetto poi è uscito l'ultimo DLC di Remnant 2 che io DLC non li ho giocati così mi faccio una run con tutti e tre i DLC completa tra l'altro segnalo per chi volesse c'è su Humble Bundle c'è l'Humble Choice che è quello mensile con dei giochi fighi tra cui Remnant 2 Remnant 2 c'è anche sul pass se volete però senza DLC io andrei sul pass a quel punto perché il bundle mensile c'è anche altri giochi su Humble sono 10 euro se paghi comunque di meno c'è Remnant 2 perché ti rimangono poi Persona 5 Striker che è il muso vabbè Giussant c'è un muso di persone Dom Keeper che è bellissimo scusa come si chiama ma è Humble Bundle sei sicuro? sì c'è l'Humble Bundle però nella home page c'è è quello mensile però il join now è quello mensile ah è quello mensile ok ho capito sì McPixel 3 vabbè altre cosine però già solo per Remnant 2 Dom Keeper io ve lo consiglio per 10 euro ok io adesso dovrei risolto tutti i miei problemi perché prima per sbaglio stavo registrando la live quindi adesso dovrebbe andare tutto alla grandissima cioè proprio spaziale dovreste sentirmi bene vedermi bene e ho giocato a gran ah mi sono arrivati 7 mail di sto giochino sembra carino ho provato la demo io allora la grafica è quella che piace tanto a Karim e a Lino ovvero Play 1 con il mal di testa sì ed è la roba che purtroppo a me frena tantissimo però senza alcun motivo mi hanno mandato la chiave cioè io non l'ho chiesto non so perché lo sviluppatore mi ha mandato una mail dicendo giocalo vabbè lo gioco e tu sei un come si chiama un giardiniere che va in questo giardino e inizia a tagliare l'erba fondamentalmente questo è quello che devi fare ti dà una percentuale in basso destra e tu tagli l'erba ovviamente essendo un gioco birbante ci sono dei misteri da scoprire quindi man mano che tagli l'erba scopri dei passaggi segreti dei posti dove puoi o non puoi andare e quindi vai a scoprire un sottobosco capito un sottobosco con dei misteri misteriosi il problema nonostante sia un gioco che mi è piaciuto da morire giocare quando perdi ricominci da zero e devi ritagliare tutta l'erba o riraccogliere gli oggetti ed è una cosa che a me ha ucciso tutto quanto e purtroppo ci ho fatto credo un'ora neanche 05 ore una giornata non ti salva mai assolutamente no cioè tu praticamente passi la tua giornata a tagliare l'erba in realtà tagliare l'erba è solamente l'inizio naturalmente poi vai a scoprire varie cose interessanti io ad esempio ho trovato un passaggio che mi ha portato in un secondo giardino dove ho incontrato un signore che mi ha detto stai attento che di lì è pericoloso poi ho trovato una chiave che mi ha aperto una porta segreta per entrare dentro un edificio gigante e io nell'edificio sono morto però per ritornare lì e scoprire magari se non andavo a destra andavo a sinistra rimanevo vivo dovevo rifarmi tutta la trafila iniziale che falle però ti sembra veramente carino è uno di quei giochi lì è uno di quei giochi lì dove è un'avventura lineare cioè non lineare lineare in base a quello che vuoi fare diciamo devi prendere sono vari finali e quindi tu devi decidere cosa fare però non puoi non ci sono i checkpoint ci sono lo rifai e scegli un altro finale però è una puttanata così sono tutti così gatto sono letteralmente tutti così è un peccato perché era bellino mi piaceva anche la meccanica del tagliare l'erba perché ti dava una percentuale poi si poteva esplorare parecchio a una certa senza motivo perché non ho ben capito ho raccolto un oggetto che però non c'entrava nulla una siepe ha aperto un barco e tu puoi entrare dentro la siepe e c'è un barco su un altro mondo però c'era un come si chiama un crepaccio e non potevo superarlo vuol dire che dovevo passare da un'altra parte però tutte quelle cose lì sono robe che non ho scoperto perché non avevo cazzo di ricominciare da zero il gioco ogni volta perché poi diventi uno speedrunner eh sì è fatto proprio apposta cioè sono proprio così dove tu poi te li fai velocissimo per raggiungere il finale eh io non ce la faccio non ce la faccio anche a me romperebbe un po' le palle così però dipende quanto ci vuole per ricominciarlo da capo no lo stesso non è anche se volessero cinque minuti e il problema è comunque che devi correre come un pezzo di merda cioè ti viene da fare le cose sempre più velocemente non mi piace per nulla come gestito io so già cosa vuol dire Moro adesso oh no ne parliamo dopo ne parliamo dopo prego prego no io noi invece abbiamo droppato dopo tre live expedition perché fa veramente cagare oggi si brucia oggi si litiga eccoci qua benvenuti alla mog sono d'accordo sono d'accordo con loro perché rispetto ai precedenti expedition è bellissimo non è vero no allora è bello per il suo è bello però è poco concreto decreto è poco no no non è proprio brutto invece dai dimmi anche perché allora infatti noi siamo tornati su snow runner che è bello sì perché allora expedition è il tra virgolette seguito di giochi è uno spin off sì nel senso è seguito di giochi di snow runner snow runner e mad runner insomma solo che su expedition intanto le mappe fanno cagare nel senso graficamente sono belle però sono mi pare cinque mappe di cui quattro sono canyon e una più forestosa ne hanno aggiunte due pensa io ne avevo solo tre eh però sono cioè i canyon sono tutti canyon cioè sali scendi di livelli e cunicoli no e robe del genere e tutto quello che devi fare è andare in giro vai da punto dove parti al punto A poi magari altre missioni vai al punto A poi dal punto A vai al punto B dal punto B e basta non c'è niente da fare nel senso no allora non è vero al massimo al massimo da fare c'è eh sonda il terreno mettendoti sì ma cioè vai al punto A e con e con dei quick time event tipo ci sono delle panoramiche e te c'è la barretta sotto devi cliccare nel punto giusto quello devi sondare l'acqua fa veramente schifo sono tutti così i giochi più o meno allora diciamo che il gioco ti porta a differenza degli altri a non fare spedizioni letteralmente cioè in snow run l'altro devi fare consegne salvare cose esatto e tutto qui invece devi fare proprio delle spedizioni per vedere se di là c'è l'acqua abbastanza fonda per fare un ponte poi costruire il ponte sì ma anche costruire il ponte fa schifo cioè qui costruire il ponte su snow runner per costruire un ponte tu magari devi andare prima nel nel posto nel nel fabbricone a prendere i tronchi oppure le assi delle robe del genere ti carichi nel tuo camion apposta per portare quelle robe lì le robe poi vai dove c'è il ponte e scarichi tutta la roba e te lo costruisce ben bene qua arrivi c'hai due materiali le parti di ricambio e il carburante tu le parti usi le parti di ricambio e c'è questa animazione da mobile game che ti spona sto ponte che si spiega e viene appoggiato lì che è terrificante poi c'è anche le missioni sono abbiamo fatto una missione dovevamo salvare dei tizi prima di salvarli devi cercarli e tipo c'era un punto inculato sopra a un canyon nel rialzo di un canyon dove per arrivarci dovevamo fare tutto il giro intorno perché era dietro la salita sali e tutto che si sta arrivi al punto e dal punto vedi più lontano delle strisciate di gomme di un passaggio e dici ok sono passati di là io ho un drone perché cazzo sono dovuto salire lì no è vero allora diciamo che secondo me non ha allora io appena l'ho iniziato ero preso benissimo perché è fighissimo soprattutto da solo perché ti permette appunto di piazzare i ganci che ti fanno arrampicare sgonfiarti le gomme e ti ti permette in solo di divertirti molto di più con voi mi sono un po' rotto i coglioni ho provato in live cos'era l'altro giorno ma in generale anche giocandoci da solo è bello andare in giro e fare le cose a tempo perso ma è vero che manca molto mordente nel gioco il motivo cioè perché dovrei giocare questo piuttosto che snow runner perché questo ha una fisica migliore ha dei panorami migliori cioè per quello però sono no no sono d'accordissimo su quello che stai dicendo tu a me l'unica roba che è mancata tornando su snow runner è la roba della pressione delle gomme e basta sì no allora diciamo che qua proprio è fatto per andare in giro ok tu vai in giro e ti godi l'open world ed è il bello ma il brutto anche lì è una merda secondo me andare in giro no a me non è dispiaciuto mentre su snow runner passi in queste strade tutte immerdate eh ma anche quella parte lì lì sono tutti canyon devi passare solo nei punti dove puoi passare perché gli altri non si può ci sono dei muri sì 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 mentre su snow runner non puoi azzardartela no perché questo qui non è tu stai scoprendo posti incontaminati diciamo no è proprio una roba diversa zero strade zero tutto vai proprio in mezzo al niente quindi quindi lo devi prendere per quello che è a me piace comunque il sistema di guida andare in giro mi piace da morire anche in expedition però snow runner ti dava più obiettivi concreti ed è la roba che poi dopo ti tiene attaccato al gioco per più tempo fondamentalmente perché nel momento in cui ti dà troppa libertà come sempre non solo il sandbox ma in generale quando un gioco ti dà troppa libertà tu ad una certa ti rompi i coglioni perché vuoi comunque dei paletti da qualche parte ma non c'è libertà su expedition minchia libertà c'è devi andare da punto A punto B seguendo la strada che ti dà lui sì però in realtà tu puoi andare dove cazzo ti pare fin da subito e poi non serve a niente andare dove ti pare no il cazzo trovi un sacco di missioni extra fai di tutto ce ne sono quattro di missioni no 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 cioè tu su snowrunner è pieno in giro trovi un sacco di roba no qui trovi un botto di punti di interesse di cose da fare di robe da fornire ma è pieno solo che devi esplorare veramente a caso lo so perché l'ho fatto te lo dico proprio per esperienza mi sono infilato in buchi e una certa non capivo neanche più dove il gioco volesse che io andassi e dove cazzo ero finito io perché stavo facendo tutt'altro sono finito proprio mi si è aperta una seconda mappa dentro la prima mappa è molto confusionario cioè noi abbiamo fatto abbiamo fatto una decina di missioni sembrano tutte tutorial eh no perché lo sono ma perché lo sono le missioni che ti danno non lo sono abbiamo fatto quella della mappa DLC io non penso che nella mappa DLC ci sia missioni tutorial boh non ti so dire eh no no c'è la mappa DLC non l'ho giocata quella le prime due missioni forse no forse quella del DLC era quella di trovare gli spedizioneri però boh anche lì cioè non era poi ci sono i perk ovvero ti porti dentro le persone che ti danno dei perk tipo consumi meno benzina il drone è proprio un gioco da single player in realtà cioè per come è strutturato sicuramente sicuramente è strutturato meglio per il per il single player anche il fatto che non potevamo attaccarci tutti e quattro con il vernicelo ma quello non puoi fare neanche su SnowRunner no credo sia semplicemente per equilibrio di gioco perché altrimenti diventa tutta una cazzata penso eh beh cioè su SnowRunner se fai il trenino attaccato diventa una stronzata forse forse MudRunner si poteva fare in quattro non c'è il multiplayer no ricordo eh forse no non mi ricordo un cazzo no non lo so però vabbè è stata la più grossa delusione del 2024 veramente secondo me è un pelo esagerato in un anno in cui è uscito Dragon's Dogma 2 è una frase importante ti giuro soprattutto per il gioco di cui dobbiamo parlare più tardi secondo me è importante ma quello però non ci puntavo così tanto beh minchia ce l'avevamo in lista desideri tutti da una vita ci puntavo un po' però non ci puntavo così tanto perché i giochi horror sono una categoria a parte ma poi non mi ha deluso così tanto Zociosis Expedition mi ha deluso ma adesso veramente ci dobbiamo picchiare Zociosis non è che mi ha deluso è proprio una merda frante è proprio immondizia vogliamo parlare di quello a sto punto che stiamo vai ecco qua allora che finale avete fatto aspe ma che finale ma di fare scusami allora Zociosis è un un gioco horror in prima persona in cui tu sei il guardiano che anche lì guarda e vabbè facciamo dopo sei il guardiano notturno di uno zoo in cui devi da solo gestire un intero zoo dove devi andare nelle gabbie degli animali curare gli animali prendendo dargli da mangiare prendendo il sangue sentendo come stanno a livello di voce per capire se hanno delle malattie creare le medicine curarli insomma e mantenere tutto quanto solo che come concept a me non dispiace infatti è molto figo però c'è un segreto oscuro praticamente c'è un virus che ogni tanto virus poi non so io non l'ho finito quindi non lo so c'è un virus che ogni tanto non l'hai finito tu quindi non puoi dire che è una merda ho fatto le prime due ore dall'inizio alla fine volevo suicidarmi quindi secondo me potrei non continuare vuol dire che non hai visto il peggio vuol dire addirittura ma io comunque sto vedendo adesso il trailer c'è roba che io non ho mai visto no no l'hanno detto tutti una delle recensioni più che la gente scriveva di più è che il trailer è super diverso da quello che in realtà dovrebbe essere il gioco in sé infatti se guardi il secondo trailer di steam è del gioco vero esatto infatti qui sono cose strane comunque è solo che c'è questo virus che attacca ogni tanto gli animali e li trasforma in queste creature abberranti che tu devi in qualche modo gestire a volte le devi uccidere a volte le puoi addormentare insomma si possono fare varie cose e c'è tutta la trama perché c'è un tizio che ti fa il tutorial all'inizio che è una roba parecchio figa praticamente tu sei un uomo disperato solo che il gioco secondo me non approfondisce troppo questa parte del disperato no ma non te lo fa capire troppo che è disperato diciamo che lo intuisci ce lo scopri dopo quando dici quando dici certe robe ma è un gioco pezzo scritto a livello di dialoghi e tutto che è grave quella cosa lì infatti guardando la live di Karim lui giustamente diceva delle critiche ma perché lui non dice niente perché succedono delle cose strane e il protagonista non dice niente perché in realtà il protagonista il lavoro se lo vuole tenere strettissimo perché a quanto pare la famiglia sta morendo di fame no? è proprio nella più totale sì ma c'è un limite dai esatto cioè quando il limite sai qual è? quando tra tutti i cibi che puoi dare agli animali ci sono le erbe ci sono i frutti il pesce eccetera e manca la carne la carne arriva dopo un'oretta di gioco sotto forma di una donna appesa a testa in giù completamente nuda perché io non avevo il filtro nudità una donna appesa a testa in giù completamente nuda che tu con una leva fai cadere dentro un trita carne e ti crea questi cubi di carne da dare agli animali e lui non dice un cazzo un cazzo allora in realtà non volevo e che ho cliccato magari pensavo di vedere come stava ti dico la verità il gioco è buggato nel senso che la prima volta è successa la stessa cosa che è successa a te Karim un'altra volta invece non ho fatto in tempo ad andare vicino la donna che mi ha ritelefonato il tipo e il protagonista si diceva io non lo voglio fare ho capito ma infatti è tutto buggato perché ha un sacco di cose di questo tipo e infatti neanche a me la prima volta era successa ed è importantissimo perché giustamente lui agisce come un essere umano normale dice ma che cazzo stiamo facendo e lui dice gli mette giù il peso sul discorso che la famiglia muore di fame poi vanno tutti a fanculo e gliela fa pesare a me dopo che l'ho salvata mi ha chiamato il tizio pensa io no io l'ho tritata perché tra l'altro è stata una roba strana perché mentre sono andato verso la leva lei ha iniziato a urlare ma io ho tirato la leva ed è morto eh sì esatto perché perché diciamo che quando ti telefona è per farti capire che cioè tu il protagonista dice eh ok tritare ma io non voglio ammazzare nessuno e lui te la porta giù anche lì il dialogo anche lì il dialogo poi è tutto surrealissimo perché boh esatto i dialoghi erano surreali ma infatti non stiamo dicendo che è scritto bene anzi a un certo punto ti dice si è intasato lo scarico del treno perché tu hai questo treno che tra l'altro anche lì no allora aspetta partiamo partiamo dall'inizio perché tutte queste cose qui questo è l'inizio purtroppo sono le prime due ore no 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 eh no no dura due ore il gioco quindi il problema non è tanto quello due ore e mezza non sono i problemi di scrittura dell'horror che ci può stare il problema più grande per me è che per ogni singolo animale di merda tu devi con solamente due oggetti per mano devi tagliare bene il cibo con la vista da ingegnere io l'ho trovato anche divertente più o meno devi tagliare il cibo quindi dargli da mangiare poi devi misurare la febbre di ognuno poi devi raccogliere la merda di ognuno dopo che hanno mangiato poi devi prendere il sangue di ognuno che non stanno fermi se non stanno fermi immobili tu il sangue non glielo puoi prendere tra l'altro sparavali col tranquillizzante esatto ho dovuto il carimbo gli è andata di culo ha preso tutti i gorilla senza fare niente io ho dovuto tranquillizzare perché dopo 20 minuti non stavano fermi anche io mi sono un attimo fermato lì eh cioè devi prendere l'audio che fanno da ogni singolo animale e una volta che hai tutto quanto torni indietro vedi di cosa sono malati trovi cioè devi ad esempio hanno la diarrea ti dice devi trovare il farmaco che però non si chiama no diarrea no devi trovare il farmaco che si chiama e nella descrizione c'è scritto questo farmaco toglie la diarrea dopo 8 righe e ok va bene perché bastava consigliarmi il farmaco quando faccio la diarrea hai capito esatto hai capito madò che cioè è tutto fatto e infatti io ho mandato un vocale abbastanza incazzato a gatto per questa roba qua perché per me non è tanto neanche il lavoro problematico che però è problematico perché ogni singola cosa che devi fare perché devi fare avanti e indietro esatto per esempio per esempio tu aspetta che sembra sempre che lo spieghiamo molto velocemente tu hai questo treno che porti da una stazione all'altra del retro di questo zoo per andare nelle gabbie cioè tu fermi alla fermata delle scimmie alla fermata dei pinguini alla fermata delle giraffe e poi fai quello che devi fare però ogni cosa che devi fare tipo tu hai un carrello un piccolo carrello con tutti i tuoi attrezzi per curare gli animali ma il carrello lo devi far scendere dal treno no tu parcheggi il treno e c'è una leva che tu tiri per far scendere il carrello ecco per farvi uno dei tanti esempi che si potrebbero fare per tirare la leva lui deve è un gioco in prima persona deve riposizionare la telecamera ti sminchi all'FOV perché c'è tutta un'animazione la mano che si allunga l'FOV l'hai rotto perché non è che l'ho rotto era così era così cioè l'FOV era niente io dovevo usare tutta la scrivania per girarmi di 40 gradi questo cazzo e te lo giuro infatti io ho visto giocare lino io non ho idea di come lino l'abbia giocato sembrava Sea of Thieves all'inizio che era così allora l'ho allargato tra l'altro ho dovuto togliere la modalità bodycam perché la modalità bodycam è il mouse molle ma poi la modalità bodycam è palesemente una di quelle telecamere nascoste del 96 quelle che ti deforma tutta la ma è voluto perché è quella sul petto quella dei poliziotti sì ma ancora che quella roba non è così è come come si chiamava bodycam è bodycam esatto che sbagliano la bodycam capisce ma come fai comunque sta leva ci vuole 6 secondi di animazione per tirare una singola leva ma farlo come negli altri giochi dove tu guardi la leva e si vede la leva che si muove quando la premi senza fare tutta l'animazione e quello dico quello è un è l'esempio più quello quello è il minimo di tutto cioè allora no ragazzi questo io cioè ma poi aprire e chiudere ti dici il carrello il carrello va su dei piccoli binari che fanno cioè tu porti questo carrello alle ai gorilla no prendi i tuoi attrezzi e poi riporti il carrello indietro il carrello fa avanti indietro da questo da questi binari io mi chiedo questo rincoglionito di merda che ha fatto il gioco ha messo un manubrio da una parte sola del carrello quindi quando lo porti sei dritto quando lo porti indietro cammini all'indietro in un carrello che fa avanti indietro come vuoi tu ma metti due manubri coglione metti due manubri perché devo camminare all'indietro metti il bar dall'altra parte ma soprattutto c'hai un binario con una cosa che fa avanti indietro e basta ma fammelo automatico perché cazzo devo spingerlo io oppure non mettere i binari è un carrello fammelo guidare libero perché metti i binari per un carrello di merda ma che cazzo vuol dire ma chi l'ha fatto perché sei scemo voglio parlare con te perché sei scemo libero credo fosse impossibile perché già il gioco è completamente distrutto di merda se potevi muovere pure il carrello esplodeva secondo me ma dai lo fanno nei supermarket simulator il carrello libero ma fammelo ma te si è bagato perché non ho guardato tutta la live a me si è bagato in mille modi allora intanto tu non hai finito la parte drammatica perché nel momento in cui arrivi a fine corsa col carrello per entrare dai gorilla devi avvicinarti al computer fa un'animazione dove metti il palmare selezionare fare apri e di nuovo animazione per togliere il palmare e lì puoi entrare però se devi tornare indietro si chiude la porta si devi rifarlo devi rifarlo ogni volta mamma mia se ti sei dimenticato una cosa basta è finita ti vuoi sparare no no è tutto così io poi appunto a me è andata di culo nel sedare gli animali perché io spammavo il tasto quindi mi hanno detto guarda che carino ce l'ha fatto non funzionava io non lo spammavo cioè funzionava tipo il quindicesimo click anche a me la prima volta ha funzionato con uno con tutte le altre no quindi ti è andata veramente di culo veramente tanto anche tagliare il cibo io voglio capire ma aspetta perché ha usato questa minchiata le scimmie perché te lo dico io si sono frizzate non potevo più fare niente ho dovuto annullare tutto fino a lì te lo dico io perché si taglia così dicevo perché lui è appassionato dei campionati mondiali di taglio del pretzel ma per davvero? non lo so però sicuramente sì non so se li avete mai visti quelli che i campionati mondiali quelli che devono tagliare il pretzel perfettamente a metà e poi pesano le due parti per vedere se sono uguali e più sono uguali più ma letteralmente quello cioè ma quello con il fiocco quello è difficile il pretzel morbido il pretzel piccolo non è un pretzel vero no 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 quelli grossi scusa mi stavo domandando se lo tagliasse in verticale oppure no no stai proprio con stai a metà con una ah è figo sei iga eh sì perché spieghiamolo agli amici a casa spieghiamolo agli amici da casa il cibo tu lo devi dare nella quantità più o meno giusta agli animali perché altrimenti o non lo mangiano o addirittura vomitano se gli redai troppo ecco e il cibo però ti arriva in cubi pesati ti arriva un cubo di tre chili e sei di pesce e tu gliene devi dare un chilo e uno però non c'è una bilancia lui ti dice questo cubo pesa tre chili e sei con la sega lo devi tagliare esattamente di uno e uno senza a occhio a occhio tu devi andare devi beccare io sono un campione infatti per me è stata la parte più bella del gioco anche secondo me però è comunque un'idiozia ma sapete quello è un problema lo è assolutamente però io ringrazio ci fosse per ogni animale tu devi dare due tipi di cibo se tu il primo taglio lo fai perfetto bene se il secondo lo canni butta via anche la prima se tu lo vuoi buttare butta via tutto se tu dici oh no devo rifare butta via tutto e tu il cibo ti rimane quello che ti è rimasto cioè se ti è rimasto un chilo e gli devi dare un chilo e due sei fottuto e se sei già alla stazione per dire delle giraffe e poi non hai più devi tornare al treno ricaricare tutto tornare al lab abbassare il carellino spostare il carellino di spalle fino carica lento nascosto della stazione tutto tutto così e poi l'horror allora a me l'horror è arrivato una volta sola perché era dai gorilla il primo horror tu veramente sei non so come tu non l'abbia finito ma era vicino al finale no c'era ancora due potevi fare due robe erano arrivati i pinguini e i pinguini erano l'ultimo veramente perché io ho visto sai cosa mi ha fermato aspetta ma i pinguini non ti si blocca dopo no c'era la ruota degli animali nelle stazioni ce ne hai quattro ce ne hai quattro i pinguini erano l'ultimo ma c'erano altri quattro punti di domanda e quindi si blocca per il new game plus esatto si no ma aspetta carino aspetta non è non è finita non è finita allora quando tu vai in new game plus ti dà gli altri quattro ma non ti dà i primi quattro e cosa serve? perché puoi fare gli altri ma vuoi sapere qual è quasi finito veramente vuoi sapere come è il finale? allora ti dico cosa ho fatto ti dico cosa ho fatto ho trovato la mano che anche lì lui ti dice ah il treno si è intasato spurgalo tu lo spurghi ed esce una mano e lui non dice niente trova una mano e non dice la staccata e poi ci sono anche qui ci sono due porte che si aprono con una mano che non è la tua ovviamente però trovi una mano nello spurgo quindi dici ok vado ad aprire una porta vai ad aprire la porta e tra l'altro la mano cioè tu io ho visto la porta e ho trovato la mano quindi non c'è stato neanche il mistero che la mano me la son portata dietro per un po' oppure io pensavo ho detto sai che figo sarebbe se magari si ammala un animale lo devi portare a lo devi aprire no? per vedere cosa è successo e dentro lo stomaco trovi la mano e dici oh madonna chissà cosa servirà tu vuoi delle meccaniche di gioco di un gioco che già è rotto di su volevo un gioco bello volevo un gioco bello infatti invece c'è lo spurgo trovi la mano capisci subito che la devi usare usi la mano nella prima porta sul pannello della prima porta e ti apri un ufficio che tra l'altro tu vedi subito il tatuaggio del serpente sulla mano e immediatamente vedi la foto col tizio con la mano serpente quindi capisci subito che senza mistero senza niente va bene poi c'è un'altra porta da usare con la mano quindi dopo aver aperto questa qua io sono andato ad aprire l'altra e mi diceva cioè usava la sua usava la sua stessa mano non quella tagliata e io ho detto ma sei il coglione ma usa quella tagliata e no quella tagliata lui dopo averla usata per la prima porta l'ha buttata ma lo sa che non va bene palesemente non va bene va bene ma dimmelo fammi usare la mano e mi dici ah non è la sua invece per me è sparita la mano cioè per me io invece ho salvato la donna no e e l'ho messa nel nel divano lì dopo sono andato a fare un'altra un'altra roba quando torno lei aveva preso una salopetta dal mio armadietto e aveva cominciato a prendere ad asciate quella porta lì quella porta lì sì dopo ho trovato la mano e vado da lei e vado per mettere la mano no e lei fa ma dove l'hai trovata fa vedere la prende la smanaccia tutta anche lei perché è una mano umana da maleducata però posso dire che si comporta proprio da maleducata tra la tizia quella di twilight palesemente è vero però sì sì ok oggi però con i capelli corti e lei a parte che è una giornalista che è andata lì per tra l'altro c'è una certa ti chiama la moglie del tizio della mano sì però tu non sai ancora che è la mano del tizio no però ti chiama la moglie di sto tizio e dice è mio marito dove potresti sentire in giro se lavora lì uno scienziato va bene poi scopri che scopri che lei la giornalista si chiama sarah walker tipo una roba del genere dopo un po' ti richiama la la moglie dello scienziato e e te gli dici guarda dovresti chiamare la polizia perché qui c'è qualcosa di strano siamo qui io e sarah walker e lei fa sarah walker sarah walker con la puttana lei si è fatta mio marito fa un culo e mette giù ma fa un culo a me ha fatto morire allora ci sta dal punto di vista di lei io lo posso capire perché lei ha pensato mi stai prendendo per il culo mio marito non sta tornando a casa perché si sta scopando quella si ho capito ma si però lui è stato zitto esatto lui ha detto tutto lui poi ha detto ah va bene esatto capito cioè tutte le frasi che dovresti dire ci sono dei mostri disumani che stanno mangiando cioè niente lui non diceva niente non diceva nulla lui in quel momento era proprio in pericolo e voleva chiamare la polizia gli ha detto signora deve chiamare la polizia perché siamo io e lei qui nella merda ah quella troiona che si è fatta il mio marito che ci sta lato lei perché però sei complice adesso cretina va bene no è che il suo marito da quanto ci ha fatto capire è uno che tornava non tornava a casa raccontava cazzate e si chiamava la cosa si chiamava le tizie in giro dal punto di vista della moglie posso capire una reazione così però lui è stato zitto a subire ah ok tra l'altro la cosa che mi ha fatto subito ridere la prima i propri primi minuti di gioco è all'inizio quando ti assume il tizio si e ti fa questa siringone intanto gigante immensa roba così e c'è tua moglie fuori chi aspetta quella roba lì della cinematic sotto la pioggia e eccola e il tizio Guillermo del Toro ti dice ma avviso tua moglie gli dico che può andare via che e tu rimani qui la notte e tu gli rispondi no no non ti preoccupare tra poco se ne accorgerà da sola e andrà a casa ma fangelo dire perché ma poi ma poi la cinematic quella dove vedi lei sotto la pioggia è lui che va via te la riuscire con la macchina no c'è la cinematic di lei vicino alla Ferrari di lui che però non si conoscono non si parlano aspetta aspetta lei c'è lei sotto la pioggia tu la vedi dalla finestra non si salutano non fanno niente poi la cinematic finisce e lei sparisce c'è l'altro che sta andando in macchina per me lei sparisce ma è alla porta che parla è veramente fatto da uno che non ha idea di che cazzo stava facendo sto gioco è terribile tutto perché non è terribile il gioco in sé è idiota dall'inizio alla fine è tutto stupido 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 anche tutto il fatto cioè se io te lo racconto dicendoti sei questo uomo disperato che va a cercare lavoro in questo zoo dove però viene ingannato e viene messo a lavorare come guardiano ma ha un virus che lo fa rischiare di di mutarsi come i mostri che ci sono dentro questo zoo e tu allora devi scoprire cosa cosa nasconde questo zoo del perché ci sono queste mutazioni devi capire come fare un antidoto per allora avrebbe funzionato come titolo lineare è figo eh sì e infatti il gioco ha 23 finali veramente cosa vuol dire 23 finali allora io facciamo dei minor spoiler perché tanto non credo che qualcuno li sanno di mente anche perché spieghiamo a Karim com'è il finale allora dove sono arrivato io io sono diventato mostro anche io sono entrato nella gabbia dei pinguini e mi sono fermato lì non li ho curati perché era tardi eh non so con le robe tue io non ho salvato la donna e lui non ha salvato la donna e io credo che finivi come me in due modi probabilmente ti trasformavi tu o ti trasformavi o venivi mangiato ah sì perché lui c'ha questi buboni sulle braccia perché c'è in sto zoo c'è la madre che è la madre dei di questi mostri qua e te tipo la roba che ti ha messo sotto pelle è il parassita quello che trasforma i mostri però te l'ha messo per non farti attaccare dai dai mostri per farti sembrare uno di loro no esatto e quello che invece ho fatto io è che ho salvato la tizia la tizia poi è venuta giù nell'ufficio con me e abbiamo per fare un antidoto non un antidoto scusa un veleno per avvelenare la madre ah aspetta perché la madre a quanto pare cioè se muore la madre muoiono anche tutti gli altri esatto la madre che cos'è non si sa ah non si sa che cos'è ok allora in un finale si vede ah si però si vede giusto uno spauracchio però non ci arrivi alla madre ma che peccato il fatto è che tipo io c'avevo il fatto è che questo veleno lo devi mettere in qualcuno di vivo lo devi iniettare si per farsi per poi darlo da mangiare alla madre non mangia roba morta esatto quindi te o te lo inietti tu o lo inietti alla tizia ah ok se la lasci in vita però si tra l'altro cioè c'è stato anche una di mezzo a queste scelte c'è stato anche un momento in cui mi ha chiamato il doc e ho detto uccidila hai rotto il canzo di fare uccidila perché è un casino così e potevo prendere l'accetta e ucciderla ma dai o almeno ho fatto addirittura si io l'ho iniettato a lei tra l'altro con un'animazione terribile con delle facce incredibili e lei è rimasta un po' infastidita dalla cosa si come noi mentre iniettavo lei aveva una faccia terrorizzata lo stava urlando appena ho finito lei è tornata tranquilla e ha detto ma cosa fai allora praticamente tu l'hai condannata a morte ad essere mangiata viva da una creatura incredibile e lei diceva oh scemo e dopo tu torni su di sopra ma stai male perché c'è i buboni e c'è il tizio che ti aspetta che ti dà una randellata però tutto è bene quel che finisce bene ok è perché lui ha dato perché lui ha dato ha detto ah adesso coglione io ti faccio mangiare dalla dalla madre e ho già dato la tua amichetta come antipasto solo che la l'amichetta era infettata e quindi è morta la madre quindi morendo la madre tu vomiti fuori il tuo di parassita e oddio sai che non mi ricordo più e poi mi sa finisce lì pensa nessuno che l'ha finito si ricorda il fatto che poi il finale è nero con le scritte con scritto quello che succede si e tutti i 23 finali sono delle piccole cose che cambiano di scritte solo che non è il finale perché tra l'altro non è successo veramente quello che c'era scritto da me perché c'era scritto che io non avevo risposto al telefono ma non era vero magari a un telefono non avevi risposto solo che hai capito cioè il finale sono due pagine uno che è un riassunto di quello che hai fatto tu c'è scritto proprio hai firmato per il lavoro hai risposto al telefono hai salvato sono tipo le scelte di Until Dawn e poi nella seconda pagina c'è poi quello che è successo dopo il finale solo che se il finale cambia solo le righe di quel che ho fatto durante la run ma io mi chiedo posso salvarmi senza salvare la tipa? sì ci sono 23 varianti che poi non sono 23 finali saranno 23 varianti esatto cioè i finali saranno tipo 4-5 io ho fatto la prima parte come Karim sono tornato e poi dopo stavo male sono morto per forza non avevo modo di risolverla mi sono trasformato e mi sono mangiato il doc eh sì non so se trovando tipo tutti i flop e cose così trovi il modo di fare l'antidoto cioè lo trovi da te ah dici così anche perché tra l'altro quando vai giù nell'ufficio io tipo sono andato giù nell'ufficio con Sara e trovo tutto lei si mette al computer e dice cazzo c'è la password e gli risponde ma non sei un hacker e lei dice no dopo un po' cioè dopo vai a fare tipo l'ultimo lavoro così torni poi da lei e gli dici ma guarda che la password non è che sarà quella dell'armadietto ma perché non me l'hai detto prima ed era quella era quella una roba del genere lui la sapeva la password ma la cosa dell'hacker lui se la ripete anche da solo un paio di volte durante la run e sto guardando adesso qui nel trailer c'è questa mano lunga ma che non esiste niente di tutto ciò nel gioco boh c'è una mano potrebbe essere una coda di un animale no sai che cos'è quella mannina che trovavi nelle patatine che si appiccica infatti è sottile sottile e poi la mano o magari nell'energy plus non lo so io l'ho fatto è possibile io l'ho fatto l'energy plus ho fatto l'energy normale due volte perché mi si è bagato quindi ho dovuto ricominciare e sono morto poi e poi dopo ho fatto l'energy plus con l'altro figlio gli animali li ho fatti tutti e io ho fatto cinque ore ho finito il gioco ma come cazzo è che non l'ho finito in due ore cioè che ero lì più che altro mi sembrava che mancasse dieci ore perché pensavi perché pensavi che ci fossero gli altri animali no ma poi c'era la porta da aprire capito e anche perché di trama di trama ce n'era pochissimo quindi ho detto mia siamo solo all'inizio perché non è possibile no perché di trama è poco poco posso dire che anche la scelta di ambientarlo nel retro dello zoo e non dentro lo zoo è una merda perché è perché allora a parte il fatto che io di zone ho visitati un miliardo e il retro dello zoo anche i più grandi che ho visitato tipo a Roma o a Napoli non sono così non esiste che usi il treno per andare ma poi i keeper vanno dentro lo zoo sono dentro lo zoo che vanno nelle gabbie entrano da dietro le gabbie ma vanno da dentro lo zoo lì te l'ha fatto solo per dividerle cose con i caricamenti esattamente però era molto più interessante farlo nel zoo era molto più bello allora spezziamogli una lancia da sviluppatore no perché è uno zoo enorme dove ti devi spostare col treno e c'è uno zookeeper uno solo che fa tutto da solo ma dai c'è proprio tutto una merda ma è ovvio che era una stronzata proprio perché deve portarti poi alla parte horror e va bene adesso questa cosa qui sì diciamo che io mi concentrerei più su altri difetti no per me è tutto perché poi a una certa si accumula tutto mettiti poi nel calderone della merda questa roba qua insomma era difficile fare uno zoo open dove tu cammini e poi vai dentro tutti gli altri giochi però le cose le fanno lui non è riuscito assolutamente tutti tutti i giochi che hanno una roba da gestire hanno la zona che non è divisa per caricamenti tu la fai e basta poi avrà magari una grafica meno bella di questo qua che comunque graficamente era molto no era un horror del genere gli animali erano animati perfettamente poi erano un po' bagatini però erano animati di cartoncino erano no perché non è vero cioè a me il gorilla era brutto non so voi quando c'era un animale che stava male che faceva dei versi da malato a parte che sboccavano sempre si se vomita perché sta male vomita ogni cinque secondi ma se vomiti così tanto esplodi muori non gli puoi togliere il sangue mentre vomita deve stare fermo ma no deve avere sì un'animazione in idol e non abbiamo parlato di prendere la temperatura che forse è la cosa peggiore di tutte prendere la temperatura perché e fa tutto da solo però se si sposta di un millimetro o va dietro le cose non lo vedi più ma perché tu non hai cercato di prendere il sangue agli elefanti Karim non c'erano gli elefanti ma il fatto è che per misurare le temperature perché cazzo c'è un aggeggio con il treppiede che non posso spostare ma no ma poi perché l'animazione ma perché il treppiede non si gira di 360 gradi perché si gira di 26 gradi puoi girarti solo così e se l'animale ti cammina piano 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 fa così va via e non prendi più vorrei anche svelare il fatto che prima che Karim lo giocasse io gli ho mandato il lungo vocale spiegandogli tutte queste cose dicendogli guarda preparati perché probabilmente se Karim l'avesse giocato vanilla complessa senza sapere nulla sarebbe molto più arrabbiato di come è arrabbiato adesso ma questa è l'idiozia che io non capisco dello sviluppatore il termometro è uno scanner un quadrato uno scanner attaccato ad un treppiede toglilo dal treppiede tienilo in mano porca di una puttana toglilo dal treppiede ma poi che treppiede è che c'ha 20 gradi di raggio perché non gira di ma toglilo dal treppiede ma cos'è sta merda? è stato molto peggio altro prendere il sangue è stata la cosa peggiore probabilmente è lì perché a me è andata di culo prendere il sangue non è così non è normale spammavo cliccavo infatti sai cosa succedeva? era palesemente buggato da me prendere il sangue perché lui ti dice devi prendere il sangue quando loro sono stanno riposando stanno dormendo che sono sdraiati a me resettava l'animazione loro stavano camminando e io spammavo il tasto per prendere il sangue quando facevo quando facevo l'animazione loro si sdraiavano si sdraiavano anche a me perché allora all'inizio spammavo anch'io perché mi funzionava poi ha smesso per sempre di funzionare e comunque loro sono in piedi che camminano che camminano e si fermano tu lo fai loro e poi si mettono anche tutti si mettevano così il fucile tra l'altro vabbè quello è un problema mio io ho settato la sensibilità molto bassa ha la sensibilità diversa ha la sensibilità diversa che non puoi sistemarlo e infatti io quando mi lavo si 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 è verissimo ma neanche quello porca puttana neanche quello ma tu non hai dovuto uccidere il pinguino volante no avevo il gorilla ha ucciso il gorilla no no perché allora in realtà in ogni zona dello zoo c'è l'infetto si tu devi fare sempre si si ma anche dalla giraffa all'inizio no la giraffa è tutorial aspetta perché le aree sono qua dal wallaby neanche il wallaby c'era cioè no era malato ma non si trasforma il wallaby però tutti gli altri si a me tutti gli altri si il pinguino il poi adesso non so se sia randomico o meno però in tutti quanti poi dopo le malattie mi dicevo anche sono randomiche comunque quindi eh però tutti mi si sono trasformati a me eh boh magari nell'NG uno per ognuno ovviamente nel finale per fare il veleno tu c'è questo minigioco che io lo credo di averlo fatto a culo non lo so c'è questo minigioco dove tu vai perché tu quando prendi poi il parassita da quello infetto che tra l'altro io me lo dimenticavo sai io ripartivo col treno devo tornare indietro glielo aspiri il parassita e poi lo metti nel treno nel ciuccia così alla fine per fare il veleno devi spremere il parassita però solo il parassita femmina quindi tu vai nel treno apri sto pannello dove sono immagazzinati i parassiti che hai preso e che però devi averli presi vivi perché io quello del gorilla l'ho ucciso ah davvero è perché quello del come hai fatto l'ucciderlo scusa è perché se tu vai nel tuo computer dove fai le medicine c'hai tranquillizzante e iniezione letale se tu fai l'iniezione letale dispari tre volte e lo uccidi ah perché tu hai ammazzato il mostro sì no il parassita ho ammazzato proprio il mostro ma guarda che c'è scritto di non usarlo l'ammazzamento è infame io ho ammazzato il gorilla è vero nella scritta del veleno c'è scritto di non usarlo mai ho capito ma è l'unico modo c'era scritto in uno dei diari no c'è scritto in uno dei diari in una delle pagine di diario c'è quello che dice questo è il modo per fare il tranquillante per non uccidere gli animali però capito anche perché anche perché io l'unica carne che c'era al lab l'avevo data mia moglie anch'io tra l'altro poi l'ho potuto chiamarla per dire no non mangiate quella carne le maledizioni no da me no ma va ma quante differenze sai che roba quindi io lì non avevo la carne per fare da mangiare per far ritornare il mondo sì no se no come fai a prendere il sangue della bestia ragazzi allora voi state ragionando come se fosse un gioco bello ti spiego un po' com'è la situazione il gioco funziona così hai tre gorilla partiamo sempre dai gorilla dai hai tre gorilla o erano quattro tre gorilla stanno male e hanno la diarrea tu vai a fare la cura per questi gorilla però non ne devi fare tre ne devi fare due perché uno dei tre mente allora li curi e il terzo si trasforma e in realtà lui non aveva la diarrea infatti non sta male quello che si trasforma non sempre però dovrebbe essere uguale agli altri anche perché ti spiegano non mi ricordo però in un floppy che trovi a caso gli dicono che i mutanti imitano le malattie esatto ma infatti ma infatti a te si è bagato perché a me era malato ciucci il sangue da un altro gorilla perché attenzione se tu avevi ciucciato anche più sangue prima per prepararti nel momento in cui li analizzi li usa tutti qui tu ciucci di nuovo il sangue da un gorilla torni indietro trovi la malattia che fa finta di essere la malattia che hai trovato e ti dà automaticamente tre fiasche e gli spari e lo curi e è finita e ti dice bravo e vomita fuori e vomita fuori il parasito perché devi prendere il sangue del del mutante si no moro l'ho fatto a me a me diceva serve il sangue del dell'animale no dell'animale c'è scritto no no da me diceva moro l'ho fatto scusami anche per quello se no cosa serve riportare allo stato normale il mutante per prendergli il sangue no lo riporti allo stato normale lui vomita il parasito è finito tu devi dargli tu devi dargli il cibo con la carne il cibo apposta per il mutante lui si butta sul cibo mangia e torna normale e lì tu devi prendere il sangue suo per fare poi il il medicinale quello per fargli vomitare poi il coso non so perché a te lo faceva con qualsiasi a me non è servito per niente bastava prendere il sangue di uno degli altri io pensavo che il cibo per il mutante servisse nel sangue io pensavo che il cibo per il mutante servisse per distrarlo e sparargli infatti io l'ho creato per quello ma poi gli ho sparato tre colpi che tra l'altro noi non stiamo parlando io non ho mai dato la carne da mangiare non stiamo parlando del fatto che per fare tutte queste cose qua quindi i proiettili tranquillanti o i proiettili che uccidono le creature l'aspirapolvere per prendere il 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 parassita eccetera eccetera devi fare avanti indietro dal treno o dal carrello o dal treno ogni volta ogni volta devi aprire devi chiudere perché se apri la porta della stanza dello zoo si chiude quella del corridoio del treno quindi ogni volta devi mettere il tuo portatile si apre la porta vai al treno usa il portatile con l'animazione tutto questo bisogna fare 5 ore di manutenzione certo per due finali comunque volevo dire prima no quando poi alla fine hai questi parassiti ce li hai in queste capsule verticali io uno ce l'avevo morto perché appunto lì ce l'avevo morto con il gorilla quindi il parassita era morto e ti dice nello schermo di fianco ci sono tre tipi di specie di parassita anche se sono tutti uguali e ti dice questo si comporta così in cerca della femmina combatte con rivalità con gli altri maschi qui il maschio è passivo ma infatti vedevi tu potevi switchare la posizione dei vari parassiti e vedere come si comportavano solo che io non l'ho fatto io ho letto c'erano descrizioni lunghe 5 righe io ne ho preso uno a caso magari non so se poi magari a culo hai preso la femmina non c'era erano tutti maschi ho controllato perché l'unica roba che mi avevano detto cioè che il gioco ti dice quindi ho controllato che fossero maschi tutti maschi qui ho preso letteralmente uno a caso e il finale poi come è stato perché probabilmente non ha funzionato il veleno no si è mangiato la tipa e io ho menato il tipo sono tornato a casa dalla mia famiglia tutti felici e contenti quindi non ho capito un cazzo cioè non lo so no forse a te funzionava diverso dice qualcuno in chat magari si era buggato o a uno o all'altro o si è buggato a uno di noi o probabilmente sono uscite 150 patch quindi secondo me abbiamo giocato tre giochi diversi è possibile sì è possibile è probabile quella cosa lì quindi va buo bo andiamo oltre dai eh sì dai io ho giocato anche tra l'altro è uscito l'altro ieri la 1.0 mi pare o forse ieri proprio aspetta è che non mi ricordo mai il nome diplomacy is not an option ah sì l'ho carino l'ho giocato ai tempi sì l'ho giochicchiato ieri perché non ce l'ho anche qualche giorno prima hanno aggiunto appunto la campagna completa e tutto quanto qualche giorno prima avevo provato a fare solo le sfide è molto carino è questo strategico alla age of empire diciamo nel senso devi costruire le cose per fare risorse per fare tutte le cose per potenziare la tua civiltà e poi ti arrivano queste orde di di nemici che a volte sono delle orde veramente tanto grandi è il bello age of empire è solo la parte dove raccogli il materiale perché poi alla fine non tower defense sì esatto è un age of empire ma tower defense nel senso che poi ti arriva alle orde e devi difendere però fai come su age of empire nel senso ti crei le tue truppe hai il cibo il legno la pietra e il ferro hai la popolazione che ogni giorno poi c'è il tempo quindi passano i giorni e ti si rimpolpano i civili quindi puoi usarli per fare le varie robe è molto carino solo che è un casino eh allora io non so perché non ce l'ho su Steam è possibile che l'abbiano dato sull'epic magari l'ho giocato lì può essere non lo so perché io ci ho giocato abbastanza ma anni fa ed è veramente tosto è veramente tosto allora non so poi quanto possa durare cioè tipo durare a me più che altro perché ogni campagna poi devi rifare riparti più o meno da zero poi non lo so se più avanti magari non riparti da zero ti dà già una base però vai devi anche prendere le truppe andare in giro esplorare la mappa per distruggere tutti magari i vari piccoli accampamenti c'hai i tot giorni e ti arrivano ogni tanto le ondate poi quella finale che di solito è la più tosta però devi far più o meno sempre la stessa cosa almeno nelle sfide ci sono le sfide tipo io ne ho fatta una che era boh follia fuori di testa però è carina come cosa perché te c'hai sta città già tutta fatta e c'hai sta roba tipo termopili dove ti arrivano dentro poi le i nemici dove tu l'unica cosa che puoi fare non puoi costruire niente se non mettere delle trappole che sono o barili esplosivi o spine e al massimo puoi creare altre truppe con questo vedendo delle immagini che arrivano veramente a fior quando c'è questa qui dove sono le termopili ne arrivano ventimila porca troia c'è c'è questa chiazza nera che vedi arrivare immensa ed è follia dopo tu c'hai anche sti poteri che c'hai sti cristalli che di solito nel gioco normale li prendi distruggendo gli accampamenti in giro e li prendi e li puoi usare per usare questi poteri divini fai storaggio della morte dall'alto la meteora però ne usi tanti quindi non è che risolvono troppo in queste situazioni qui ah no certo più che altro l'ho trovato veramente complicato perché cazzo devi non sai giocare per quello devi no devi conoscerlo benissimo il gioco e fare tutto di frettissima ecco questa è una cosa molto brutta nel momento in cui alcuni giochi ti ti costringono al train and error si perde proprio tutto il divertimento perché un gioco così poi eh sì perché veramente puoi dopo ricominciare tutto ma anche gli altri giochi anche Zocchi Zocchosis devi ricominciare tutto per per fare le cose devi fare tutte di fila però non puoi neanche correre è brutto quando il gioco ti costringe a fare questa tutta questa ma è un film eh no in chat dicono tipo Frostpunk no perché su Frostpunk se sbagli cioè non è poi lì su Frostpunk non è che sbagli magari prendi una scelta che ti manda in culo qualcosa sì però comunque c'è il modo di rimediare magari no robe del genere beh no cioè comunque c'è il modo magari la vivi più difficile però non è che sì per forza perdi qui è proprio un non c'è il tempo di pensare a tutto è un casino ti frega quella roba lì The Arbillions non l'ho giocato però è figo poi perché ti arriva quest'enorme orda e te c'hai magari trabucchi le robe che spari i palle vedi vedi proprio le chiazze di persone saltare via dal treno si vede però cazzo è troppo folle eh gioca bene c'è il mouse buono eh ma infatti gioco bene solo che è impossibile cioè quella roba lì più che fare le cose che ti dà da fare come cazzo fai poi io l'ho giocato alla difficoltà media adesso hanno avuto ulteriori due difficoltà con la 1.0 che cazzo fai cosa vuol dire non è vero però vabbè poi e io invece ho giocato a Titan Chaser che è un gioco che è uscito che io ho giocato una vita fa eh anche io proprio al lancio in accesso anticipato e poi ogni tot mi ricordo che è uscita la 1.0 ogni volta che lo vedo nella mia lista è uscita proprio perché non ti ho guardato sì 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 ma è uscita nel 2021 mi sembra 2022 non è possibile io ci ho giocato il 28 aprile 2021 e allora 2022 è uscita prova a vedere nella pagina cosa dice la pagina del negozio perché è un ottimo no è uscito a febbraio febbraio vedi ok e io l'ho giocato e quindi l'ho giocata la 1.0 qual è l'uscita dell'early access non ti metto l'uscita della 1.0 no no te lo cambiano moro si te lo cambiano ti mettono la data di uscita ti mettono quindi è uscito a febbraio l'ho giocato ad aprile è un gioco molto interessante è un po' vecchio si vede che è stato fatto nel 2020 diciamo che i giochi indie adesso hanno anche un sistema di illuminazione e di animazione un po' più bello di base quindi è un po' vecchiotto tutto nelle meccaniche e tu sei una donna che decide di abbandonare la città dove viveva e di andare a prendere il lavoro come guardiana dei titani è un mondo normale sei nella periferia di una grande città però in questo mondo ci sono dei titani che ogni tanto vagano e per sbaglio distruggono tutto e quindi il lavoro del guardiano è quello di andare con la tua macchina in giro capire dove sono dove è andato il titano e riportarlo a casa sua non ci sono combattimenti è tutto viaggio con la musica lo fai nella radio lo riporti a casa vai sì diciamo che lo riposizioni dove abita lui che è comunque tipo il primo titano è una viverna proprio di Dark Souls sembra sì ho fatto solo quello esatto tu devi accendere delle parabole enormi lei si posa sulle parabole finché non la porti al faro che è casa sua e basta poi torni a dormire ed è stato un progredire nel senso che il gioco dura due ore tutto ed è figo perché a un certo punto non voglio fare spoiler ma sono quattro titani l'ultimo titano ha un twist che ti fa capire che c'è qualcosa che non va in tutto quello che tu stai facendo perché tu hai un tizio che ti dà un foglio ogni mattina ogni sera perché è tutto ambientato di notte ogni sera ti dà il foglio che ti dice dove è il titano eccetera eccetera all'ultimo titano succede qualcosa che ti fa capire che è tutto strano quello che sta succedendo e poi da lì ti dà quattro finali te lo dice proprio tu puoi fare questo o questo o questo o questo e tu dici minchia chissà quali grandi i revelation ci saranno i quattro finali sono tutti identici ed è sono tutti e quattro una merda una merda nel senso che non spiega niente proprio nel senso ti dice puoi andare puoi tornare in città torni in città e ti dice eccomi qua sono tornato in città fine uguale puoi tornare ad abitare con i tuoi genitori vai dai tuoi genitori eccomi qui mamma sono tornato fine tutti e quattro così i finali anche quello che sembrerebbe importante cioè vai a parlare con tizio vai a parlare con tizio e non succede niente non ci parli ci rimani insieme e dici ah sei qui sì rimango qua con te fine ed è non spiega niente però però c'è lo special di Halloween che è una quinta missione che è uno special di Halloween io non l'ho fatto perché è uno special di Halloween e invece a quanto pare nello special di Halloween c'è un dialogo extra con questo personaggio qua importante e quindi mi toccherà farlo poi quando farò lo special di Halloween allora il gioco è magnifico per essere un mindi fatto da una singola persona però peccato le robe fighe non te le spiega non ti dà niente e poi io chi è che ha inventato i finali multipli vado veramente lo voglio prendere a calci veramente ma io lo accetto il finale multiple però non può essere così né i 23 finali di prima né questi 4 finali qua cioè credo che il primo che abbia il primo che abbia dato problemi col finale multiple sia stato Mass Effect 3 che aveva dato quei 4 finali che erano 4 colori diversi ai tempi 3 finali poi prima che lo correggessero con i DLC con vari accorgimenti però il primo grande problema del finale multiple che non era multiple era o la stessa ma con colori diversi era un po' particolare però veramente che cazzo cioè c'hanno sta perché poi è negli indie il maggior problema che mettono i finali multipli e non serve ma non li mettere non serve proprio no li mettono per farti rifare per darti la rigiocabilità sta lì il problema cioè vedi anche i giochi di cui ho parlato io prima certamente sia quello del giardiniere che quello che è zochosis cioè perché devi assolutamente rigiocarti il gioco per giustificare il prezzo ma se t'accorgi che poi inizi dalla fine qui inizi dalla fine no perché poi succede come adesso faccio un esempio un po' laterale ma succede come i poop killer i poop killer sono sei sette tipo nove poop killer sono ogni poop killer cioè sono nove sequel con un prequel anche ma hanno tutti i finali multipli tutti cioè nessuno è canonico come fanno a essere sequel se poi non mi dai il finale canonico va bene ti devono dire quello è canonico no no tu devi devi farmelo capire chiaro e tondo qual è perché se tu non sei capace a scrivere un gioco perché poi il problema è quello il problema è se non sei capace a scrivere succede che poi sono 40 finali sembrano tutti canonici e non è vero quindi non so anche perché i finali di poop killer poi erano arriva il mostro fatto di marijuana che si fuma al nemico sì no guardi i poop killer sono una roba riporta in vita i morti che cagano contro il poop killer e lo uccidono cioè tutto era tutto quindi quale cazzo è il finale giusto dimmelo oh madonna santa sì dio mio mi dà veramente fastidio quando mi devono dire quale cosa è canonica e perché cazzo non me quindi cosa sto giocando cioè se non è canonico allora cosa lo sto giocando a fare io e sì soprattutto se poi non mi dai l'opportunità di ricominciare qual è che era l'assassin creed quello cos'era odyssey dove quello canonico era però la donna che cazzo mi metti a fare il maschio scusa e che ci vuole altri citture ti fai altri citture ho giocato uno spin off che non serve a niente perché lì c'è la gente che non vuole giocare come la la femmina dove ne frego un cazzo a me no ma dimmelo prima me lo dici così almeno ho giocato a Tomb Raider una vita negli anni 90 ma ha detto chi ma non è che devo andare a vedere l'intervista del produttore per capire no no adesso adesso a quanto pare la gente non vuole più e il motivo per cui è andato male Star Wars è perché ho parlato con persone che me l'hanno detto che non vogliono giocare con la donna come protagonista e sono convinti una vita a Tomb Raider senza mai lamentarsi io quella roba lì non la gioco perché hanno voluto fare la cosa woke capimi ma è una donna protagonista no ma allora quello la roba la cosa della cosa woke mamma mia è una tortura è diventata ormai che delle volte è vero però non è il caso di Star Wars no no è una tortura è la discussione la discussione è diventata una tortura perché veramente mamma mia si lamentano proprio del nulla perché semplicemente no e che poi te ne accorgi quando perché è un è una lotta sensata quella dell'anti-walk spesso solo che la gente non ha idea di cosa cazzo sia e te ne accorgi subito quando uno dice è quella cosa è woke e non ne sa un cazzo e non è mai woke e non ne sa un cazzo te ne accorgi istantaneamente che quella persona lì sta parlando senza saperne nulla infatti boh cioè adesso a quanto pare anche usare il protagonista femminile non va bene ed è un motivo per cui mettono sempre la scelta poi io sono il primo a dire se posso scegliere tra maschio e femmina faccio il maschio perché mi ci immedesimo di più però ma non è il discorso cioè non è non è il fatto è che se tu hai fatto una storia se tu decidi che il protagonista è femmina se io gioco control io gioco control c'è che si lamenta qualcuno si è mai lamentato di control che c'è la femmina ma se tu ci pensi metà dei giochi importantini degli ultimi anni avevano protagoniste femminili Horizon se fosse uscito oggi l'avrebbero additato come woke ti ricordi la discussione su Horizon perché era brutta ti ricordi perché aveva i pelucchi sulle infatti adesso hanno fatto la remaster e lei con il lifting il filtro di isola di merda è veramente una porcheria terrificante che schifo vabbè terrificante il fatto che ti accorgi subito quando è effettivamente qualcosa di woke e no cioè quando è fatto apposta per e non devi stare a sentire in giro quello che dicono e non dico perché appunto tipo Alan Wake 2 c'è il protagonista femmina nera per di più pensa però si sono la mente detti di quello sì sì però una volta uscito quello io non ho più sentito la mentele no io non ho più sentito parlarne proprio in generale Alan Wake è finito nel buio è un po' infatti ha venduto un cazzo Alan Wake 2 se non mi ricordo male come al solito nei giochi di Remedy però io sono contento che loro hanno hanno chiesto i soldi a Tencent per proseguire a lavorare comunque almeno proseguo benissimo come glieli ridanno poi non glieli ridanno se non vendono non gli danno i soldi per fare poi mazzi loro io invece ho giocato il Taumaturgo ma in italiano con la traduzione no c'è la traduzione amatoriale a me ha fatto un po' caccare all'inizio io ho fatto la prima ora per i cazzi miei non so forse meno di un'ora avevo fatto una mezz'oretta a 40 minuti e non mi era piaciuto molto il gameplay anche non mi è piaciuto io ci ho giocato tre ore il problema è che è troppo lineare cioè non il gioco come è strutturato è un GDR adesso perdonatemi ma non sono un così esperto di GDR attuali quindi io giocavo i GDR alla Baldur's Gate esatto mi viene da dire Baldur's Gate però in realtà in Baldur's Gate puoi andare dove ti pare parlare con chi ti pare fare tutto quello che ti pare no qui no qui hai praticamente delle mappe prefatte con dei corridoioni cioè sono proprio dei corridoi e puoi parlare solo con le persone che il gioco decide che tu puoi con cui puoi parlare tu sei un taumaturgo che a quanto pare capisce i sentimenti delle persone attraverso gli oggetti ed è carino perché trovi Rasputin che ti dice dimostrami di essere un taumaturgo tu schiocchi le dita e ogni volta che schiocchi le dita ti fa vedere in giro per la zona dove ci sono degli oggetti interagibili e tu una volta che hai toccato tutti gli oggetti metti assieme gli indizi un po' come funziona in come si chiama in Sherlock Holmes e arrivi alla soluzione cioè quindi trovi cinque indizi che ti danno una mini descrizione trovi il quinto e metti tutto assieme e poi dopo vai dal tipo e dice questo era tuo e tu pensavi questo bravo complimenti e il gioco è tutto così tu vai in giro a schioccare le dita per trovare gli oggetti parli con chi che devi parlare perché per portare avanti la trama e poi ogni tanto combatti i combattimenti sono a turni con la barra nel senso che c'è una barra per ogni persona in campo e tu sai che ti sta per arrivare un pugno alla fine della barra del nemico e tu puoi decidere se fare un attacco leggero e colpirlo subito un attacco pesante e superare però il punto quindi ricevi il pugno e poi lo riattacchi ed è abbastanza semplice il problema è che in tre ore avrò fatto tre combattimenti tutto il resto erano pipponi eh vabbè lì è come però esatto però non cioè esplori poco perché sono solo corridoi vai in giro a schioccare le dita come in Hogwarts Legacy com'è che si chiama Rebellio Rebellio esatto tu veramente vai in giro sempre così io ero lì cliccare continuamente tasto destro per trovare cose ho fatto quattro dialoghi cioè non mi ha veramente preso ed è un peccato perché non mi stava dispiacendo ma insomma perché esteticamente sembra molto bello anche è anche in un periodo storico interessante cioè però proprio mi sono roti i coglioni perché tu hai dei corridoi così in in isometrica però puoi parlare solo con la stessa persona quindi boh e tra l'altro ho visto che anche le recensioni ai tempi quando era uscito non erano il massimo che c'erano in lista di desideri ma invece no invece tra l'altro è uscito anche la 1.0 di shadows of doubt veramente è uscita la 1.0 però l'italiano è tutto rotto e beh certo perché era fatto sulla versione prima no l'italiano è con il traduttore c'è l'italiano nel gioco no ed è una patch è una patch fatta col traduttore che che è già prefatto il problema è che è completamente disintegrato o tu usavi quello tuo automatico che no cioè le recensioni da quando c'è la 1.0 sono diventate nella media sì eh sì under quick ed 1.0 dicono eccoci qua fuori ha detto che ci voleva ancora un po' è pieno di bug dicono eh più che altro perché è un gioco che rischi veramente di softlockarti più che altro ed è un casino anche capirlo poi quando sei softlockato il problema più grande è che è tutto generato proceduralmente però sarebbe stato carino avere più missioni ad hoc come quella esatto come quella iniziale che è fighissima quindi servirebbe un po' di guida ed è il solito discorso troppo sandbox eh però cioè allora il bello di questo è proprio che è sandbox perché il fatto di capitarti robe che si generano robe così è quello il figo del gioco qui però se poi non funziona bene però adesso magari non ha più la traduzione me lo devo giocare in inglese per ora eh sì perché come gioco è molto carino ti fa proprio sentire di indagare che poi è comunque piccolo il posto da morire mi è piaciuto veramente un casino allora l'ho rigiocato adesso recentemente per mezz'ora poi purtroppo non l'italiano è essenziale in questo gioco qua perché ci sono talmente tante cose l'italiano con l'uscita della 1.0 ma non l'ha messo ah un fami figurati quindi insomma eh rimane uno dei giochi più belli del genere è come concept ma anche l'ambiente è fighissimo la grafica e voxel però è tutto con questa illuminazione particolare ma non c'è un caricamento che sia uno poi la cosa più bella cioè ripeto ma ti girava di merda le prime volte la roba che a me piace di più in assoluto è che quando tu prendi l'ascensore ti fa vedere proprio tutti i piani che stai passando cioè l'ascensore è griglia e tu vedi tutto è bellissimo ma perché la mappa non è grande cioè la mappa di solito è un quadrato ed è praticamente un quartiere ed è tutto concentrato lì però pieno è pieno perché è tutto in verticale è quello che doveva essere Cyberpunk fondamentalmente non so se vi ricordate quando avevano fatto le varie promesse 100 anni prima cioè Cyberpunk doveva essere non larghissimo però tutto sviluppato in verticale dove potevi entrare e fare di tutto e invece non era tra l'altro dicono che stavo leggendo qualche discussione su Steam e dicono che probabilmente ha venduto pochino e quindi hanno la 1.0 l'hanno fatta uscire un po' di fretta probabilmente ripolvare le saccocce così dicono è un'ipotesi però di solito quando escono le 1.0 all'improvviso è per quello anche perché loro avevano fatto delle roadmap che poi hanno tolto c'è scritto quindi mi sa che non è andata benissimo e quindi velocemente l'hanno tirata fuori è una roba proprio facilmente a proposito di 1.0 uscite all'improvviso è di orde non l'ho ancora giocato ma è un gioco che io ho giocato perché mi attirava nel 2020 quando era uscito all'accesso anticipato si chiama The Black Masses ed è un'avventura medievale in prima persona che però ha anche sempre in prima persona battaglie con orde di nemici e non avevano più fatto sapere niente del gioco è per quello che ha un botto di recensioni negative perché l'avevano abbandonato poi l'hanno ripreso due anni dopo e l'hanno fatto uscire all'improvviso è uscita la 1.0 di un gioco quindi è uscito nel 2020 è uscito era l'accesso anticipato è uscito nel 2020 e l'ultima edizione lo 1.0 credo una settimana fa neanche qualche giorno fa qua comunque è scritto 12 marzo 2020 ma te l'ho detto non è allora non la giornano sempre ok no no è uscito io l'ho scoperto da The Firehouse c'era sopra delle notizie ah sotto sotto lì full release quando è? 3 ottobre 3 ottobre io ci avevo registrato un video perché stavo aspettando gli aggiornamenti perché comunque il gioco era interessante perché tu tipo quando arrivano gli eserciti di zombie tu puoi nasconderti dentro un mulino a vento e il mulino spappola tutti gli zombie capito in più il gioco era un'avventura un RPG un action RPG in prima tipo Might and Magic è un muso praticamente quasi però in realtà hai anche tutta la parte tranquilla dove visiti la città vai nelle case a prendere i bauli però è uscito all'improvviso un gioco che nessuno aveva giocato già allora praticamente quindi è così e te ne dico anche un altro sempre per le orde questo qui è un po' un caso secondo me da scoprire allora te lo dico si chiama Dread Dawn questo gioco qua come si scrive Dread Dawn come tramonto eccolo lì il primo quello è tutto cinese perché non me l'hai detto la parte cinese questo qua è Project Zomboid ma in single player con un'avventura quasi ok ed è un gioco molto profondo che io ho giocato solo perché ho visto il trailer le recensioni dicono che cioè le recensioni negative sono perché è molto lento cioè all'inizio tu vai da punto A a punto B a parlare con delle persone devi cercare tua sorella nel dormitorio eccetera eccetera però è un gioco profondissimo ma tanto profondo fate conto Enotria pesa 16 gigabyte questo ne pesa 24 questo gioco qua con questa grafica enisometrica perché secondo me è enorme questo gioco qui infatti io ho giocato un'ora se non mi ricordo male e ho fatto niente sono andato in giro a parlare con le persone perché tu vivi l'esperienza della dell'epidemia appena successa che figo era appena successo e quindi si sono tutti chiusi nel dormitorio dove diviso maschile e femminile e quindi ogni tanto vedi delle robe che succedono fuori con le radio ma poi ogni tanto tu cammini nel dormitorio ci sono 8000 NPC che fanno cose che aggiustano si siedono leggono bevono tutto fatto con questa grafica molto minimal perché se vedi personaggi non hanno il viso sono tipo manichini animati però io non so io ti giuro sono curioso il gameplay è Project Zomboid cioè ci sono tutti i cestini ci sono i cestini no in realtà è un action RPG isometrica sì clicchi il cestino ti apri l'inventario perché tutto è un survival no 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 certo ma infatti non riesco a giocare con questa impostazione perché devo continuare a cliccare aprire fare infatti Project Zomboid non sono riuscito beh è molto più semplice Project Zomboid è proprio super complesso anche nelle meccaniche più semplici questo qui è un action un survival in isone emetrica come se fosse un un oh no sei finito su un'isola deserta devi craftarti la roba però qui il crafting è più sulla difesa della della zona in cui sei devi difendere mettere i muri però io non sono neanche lontanamente arrivato là io sto ancora prendendo cartacce dai bidoni il cibo per ogni tanto mangiare e parlare con mia sorella e gli NPC in un'ora quindi la gente ha detto eh ma è molto lento non ho voglia va bene però mi attirano le orde infinite perché dal thriller sembra fighissimo graficamente è molto bello tra l'altro è a questo stile molto minimal ma è ben illuminato che è figo però è lì nessuno sa che esiste questo gioco tra l'altro quasi è uscito in 1.0 subito non è in accesso quindi boh è curioso è lì sta là però io ho Yakuza e quindi bravo sei a dieta esattamente questo rimpiccio di Shebast scusate stavo cercando di vedere se riuscivo a fare bene e io non saprei che cazzo altro ho giocato in realtà non ho giocato tantissimo poco anch'io in realtà ho viato fear and hunger con la promessa dell'italiano ma era una bugia beh c'è l'italiano no no c'è tradotto a parte se vuoi no non è vero in che senso nel senso che la traduzione che ho trovato su su Nexus diceva ehi lo abbiamo lo abbiamo tradotto e tutto quanto in realtà è una traduzione fatta automaticamente da Google Translate che loro hanno piazzato e messo su alcune cose le hanno sistemate altre no ti giuro è inguardabile i commenti alla traduzione sì sì i commenti alla traduzione dicono piuttosto giocatevelo in inglese senza sapere l'inglese questo è quello che ci scremmo ok va bene poi non so se ci siano altre traduzioni ma io ho scariato anche a me viene sempre lì lì il voglino per Fear and Hunger però non mi ci avvicino mai io l'ho preso perché c'era il festival degli sconti infatti ho comprato anche il festival degli RPG ho preso anche Voice of Cards però non l'ho ancora avviato non lo so quello l'ho fatto da Yoko Taro un matto lui veramente un matto un matto un matto un matto completo sì 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 o fuori di melone e ho ricominciato Kingdom Come Deliverance ho visto anche quello ah l'ho finito tra l'altro eh com'è andata bello bello tutto bello il pippone com'è andato ma ah tra l'altro no mi sei buggata la cazza in finale no cioè c'avevo tutto il pippone con il finale che parlano così ma avevo sotto i sottotitoli del finale della missione DLC di Johanka che merda quindi dovevo stare lì concentrato attentissimo senza guardare i sottotitoli ascoltando il coso quindi è stato un caccaio quel punto di vista lì però però bello mi è piaciuto non vedo l'ora del secondo anche se non lo giocherò al day one perché esce in mezzo a dei mostri giganti eh io non so quando esce silent hill che mica ce l'ha andata la chiave è uscito ieri mi sa no no solo per i fichi esce domani mi sa o domani dopo domani non mi ricordo apparentemente brutto però invece a quanto pare è molto bello quindi sono contenti mi sa che ci puoi giocare prima se paghi i gran soldi vedevo nella home di Steam lì che c'è cos'è questo titolo qua invece non lo so quello è sicuramente porto non guardare no c'era You Pipsy che è quello lì consiglio molto io sempre è vero ce l'ho sempre lì da fare è veramente bellissimo You Pipsy bellissimo addirittura a me è diventato uno dei miei giochi preferiti c'è la madonna c'è quel tipo di surrealismo lì che a me piace da morire è anche mezzo horror io ce l'ho lì in lista da una vita però non so è un'avventuretta non dura neanche un'esagerazione ma l'hanno parlato in una moca eh non mi ricordo ogni tanto lo tira fuori tanto il moro lo tira fuori dice che è bellissimo però a me piace proprio quel tipo di avventure così non esistono purtroppo è unico va bene settimana prossima Dragon Ball esce yeeeh dai yeeeh dai yee forte chissà se hanno messo una sottospecie di avventura come il Tenkaichi 3 o è solo botte come gli altri mille giochi ti sa va va bene vedremo dai noi vi salutiamo io non ho idea ma datemi un'idea io non lo so non lo so non ho idea mi dispiace ma sono inutili siete non lo so non lo so scusate per i vari problemi tecnici però alla fine ne siamo usciti vincitori direi abbiamo sistemato l'abbiamo fatta dai andate dove volete e un saluto ciao ciao ciao